ben trovati da luigi pistone per il web network radio nof siamo in collegamento con don francesco corbo della parrocchia di sant'anna e san gioacchino di potenza per il consueto appuntamento settimanale alcuni minuti di riflessione prego don francesco a lei la parola sempre nella chiesa si è parlato dei martiri sin dai primi anni del cristianesimo noi abbiamo seguito un po' la storia degli apostoli per esempio che dopo essere scappati di venerdì santo per la paura di morire insieme a cristo dopo aver fatto l'esperienza della tomba vuota di cristo risorto sono stati capaci di morire per dichiarare la loro fede in cristo risorto e tutti i dodici gli apostoli fatta eccezione di giovanni sono stati uccisi per la loro fede in cristo e poi abbiamo tutti i martiri del colosseo dell'epoca romana c'è adesso sui finali giorni oggi dove ancora continua il martirio dei cristiani ma c'è una particolarità in questi ultimi decenni anche a partire dal secolo scorso quando cristiani sia cattolici che luterani o protestanti insieme sono stati uccisi perché cristiani non perché cattolici perché cristiani ed è un fatto nuovo della storia della richiesta soprattutto della storia contemporanea e partiamo da un episodio particolare che riguarda una prigione di amburgo dove prima di morire dei capitati il 10 novembre 1943 vittime del delirio nazista alcune persone alcuni cristiani dei cattolici e un luterano si erano collegati tra di loro hanno condiviso le loro prediche scomode di rinunce scambio di messaggi clandestini partecipazione alla diffusione delle gelbri omelie del vesco di minister Clemens Augusto von Gallen che è chiaramente contro il regime nazional socialista fino al comune soccorso dei senatetti dopo i bombardamenti in questa maniera essi davano la loro testimonianza più coerente della loro fine davanti alle persecuzioni da parte della cristalmo nonché un comune muovente esempio di libertà dei cosiddetti martiri di lubecca la città tedesca in cui si conoscerebbe principalmente operare si celebra il 25 giugno il decimo anniversario della loro benificazione che significa il riconoscimento della loro santità ma la particolarità è che non si parla soltanto di tre sacerdoti cattolici anche del pastore protestante Carlo Fusiedri della chiesa evangelica fruterana con il quale condiviscono questi presi condiviscono tutto anche addirittura la cellula prima di essere chiamato uno dopo l'altro verso la ghigliottina e condenato a morte per disfattismo ascolto di trasmissioni ostili favoreggiamendo dell'unico tradimento della patria. Quando la chiesa cattolica ha voluto riconoscere il martirio di questi tre sacerdoti cattolici la chiesa cattolica per voci di Papa Francesco non ha potuto non riconoscere la stessa qualità anche al martire non ha potuto essere luterano cristiano 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 cattolico perché avendo fatto lo stesso itinerario avendo dato la stessa testimonianza essendo morti per lo stesso motivo ecco non potevano essere distinti nel riconoscimento della loro santità e Papa Francesco parlando appunto di questi quattro martiri cristiani dice hanno dato una grande testimonianza ecumenica di umanità e speranza con la comune sofferenza in carcere fino alla loro comune esecuzione nel 1943 è impressionante diceva Francesco come guardassero sempre il cielo nelle loro celle sotterraniche amicizia nella preghiera le mani giunte serrate dalle manette mentre le condizioni al patico e fiducia in Dio sempre questi quattro ci dicono cosa significa essere un cristiano stare dove sta Gesù vivere e morire con lui osservo il cardinale Walter Casper presidente del condificio consiglio per la promozione dell'interno cristiano nell'omenia della messa di beatificazione ci diceva il nostro ecumenismo è fondato solo l'ecumenismo di martiri noi abbiamo bisogno di cristiani dal pensiero ecumenico convinti della loro identità cattolica evangelica e cortadosso che ne rendono testimonianza non a caso alla vigilia della beatificazione si è svolta da burgo un servizio evangelico in memoria di tutti e quattro i martiri a quale partecipò anche l'accelesco Werner disse ecco è un'esperienza bellissima luterani cattolici che insieme ognuno secondo i propri riti secondo le proprie regole riconosce il martirio di cristiani dell'altra confessione religiosa i luterani riconoscono il martiri per la vite dei cattolici cattolici fanno la stessa cosa per il luterano e ci si trova dunque ad un ecumenismo da parte di questi quattro cristiani che possiamo chiamare ecumenismo dei martiri ecumenismo del sangue in alcuni paesi ammazzano i cristiani perché portano una croce o una bibbia e prima di ammazzate non gli domandano se sono anglicani, luterani, cattolici, cattolici il sangue è mischiato e c'è una testimonianza che dice che a Dambunco c'era un palco che seguiva la causa di beatificazione di un prete cattolico bigliottinato dai nazisti perché segnava il catechismo ai bambini dopo di lui nella fila dei condannati c'era un pastore ulterato che era ucciso per lo stesso motivo che il loro sangue si è mescolato e che seguiva la pratica dice io seguo la pratica di tutti e due perché entrambi sono cristiani non interessa se sono della chiesa cattolica o della chiesa luterana questo è l'ecumenismo del sangue sono persone che con il sangue hanno dato la loro testimonianza allo stesso Gesù Cristo anche se dal punto di vista diciamo così di dottrinare il teologico c'era qualche divisione i quattro affrontarono l'esecuzione senza paura quasi con Giorgio attestimoniando solo le lettere inviate ai familiari meraviglioso l'ascito di virtù cristiana prima di morire il luterano del Brindis qui sia la moglie Dio ti benedica e ti protegga Dio protegga e benedica voi amati figli l'attesa è finita e finalmente torna a vedere chiaramente la strada davanti a me e la meta è ben nota non è difficile morire quando ci si affida alle mani di Dio la testimonianza di questi quattro cristiani possa servire a noi oggi nell'impegno che stiamo portando avanti nel campo ecumenico e anche nel dialogo con gli ebrei e con i musulmani grazie Don Francesco da Radionop è tutto a risedirci alla prossima occasione grazie a tutti